Innanzitutto devo dire che con Giorgetti ci conosciamo da tanti anni, il rapporto è sempre stato buono e è sempre stato improntato alla trasparenza. Al suo posto io avrei fatto lo stesso, nel senso che era chiaro che bisognava un po' cambiare le carte sul tavolo. Ora il messaggio è però di guardare con fiducia a quello che fa questo territorio, capisco che in questo momento il tema sia non ci mettiamo soldi, ma lavoriamoci, attenzione, le Olimpiadi non è che ci abbiamo in tasca, la decisione è a settembre, è chiaro che c'è ancora molto lavoro da fare e poi se la decisione, se ci verranno segnate, magari qualcosa cambierà. Il governo che dice non mettiamo fondi, vedremo, in questo momento Lombardia e Veneto hanno comunque una dimensione di capacità di finanziamento, non solo il pubblico ma anche il privato, che mi lascia tranquillo, poi magari le cose cambieranno. Se ci portiamo a casa la designazione a settembre l'anno prossimo, vediamo se poi il governo potrà anche cambiare idea.